La Uiba vince ancora, il 3-1 contro Club Italia ha regalato alle Farfalle la sesta vittoria consecutiva su sei giornate. Un cammino che vale oro, anche se il campionato è finora stato cremente con Gennari e compagne, che non si può dire abbiano avuto un calendario poco agevole. È proprio per questo che le troppe fatiche provate contro le Azzurrine devono restare un piccolo campanello d'allarme su cui lavorare per non farsi trovare impreparati davanti alle sfide che contano. Insomma, si può e si deve fare ancora meglio, perché per provare ad avvicinarsi a questo scudetto c'è bisogno di qualcosa in più. Sembra strano dirlo a una squadra che praticamente è a punteggio pieno se si esclude il tie-break giocato settimana scorsa con il Bisonte, ma le Corazzate Novare e Conegliano hanno di partenza qualche gradino in più che si può superire con il lavoro, l'esperienza e tanto rodaggio. Mencarelli lo sa e in attesa delle grandi sta costruendo le basi solide su cui innalzare il proprio bottino di punti sul campo. Domenica prossima non si scherza più, Alpalayama mai torna Scandicci guidata da re Carlo Parisi. Sfida complessa che però forse è meno complicata rispetto alla passata stagione. C'è poi il pubblico bustocco a completare il pacchetto che potrà far abbassare l'asticella dell'incontro con il suo calore. La battaglia inizia adesso.